Ha ricominciato a sudare il Nibiano e Valtidone del presidente Walter Alberici e del confermato tecnico Luca Rastelli che a Trevozzo ha iniziato la preparazione per una stagione in cui si candida a giocare un ruolo da protagonista nel campionato di eccellenza. Le aspettative quest'anno sono aspettative come sempre molto ambiziose. La squadra è stata costruita per essere protagonista in questo campionato. Alle tante conferme, Grasso, Minasola e Iacchimoschi su tutte, si sono aggiunti gli arrivi di Guerci, Serena, Bini, Tambussi, Vecchi, Rossi e Ridolfi. I biancazzurri non possono e non vogliono nascondersi. Di certo il Nibiano non ha intenzione di nascondersi, dobbiamo alzare sicuramente la sticella perché lo dobbiamo al presidente, lo dobbiamo a questa società che ci permette di essere competitivi in un girone che sarà molto difficile ma noi vogliamo fare del nostro meglio e per il nostro meglio intendo fare più punti possibili e mettersi dietro più squadre possibili. Nel girone di eccellenza più piacentino di sempre, con la presenza anche di Agazzanese e Gotico Garibaldina, per il Nibiano e Valtidone le concorrenti più attrezzate per la vittoria finale sembrano Correggese, Borgo Sandonnino, Terre di Castelli e Vianese. Al campo, tra nove mesi, l'ardua sentenza.